gentili telespettatori buona giornata siamo da giovanni floris e si sciacalla allegramente sul caso giulia siamo finiti al patriarcato e provano gli ospiti di floris a darne una definizione gianni scipione rossi uno storico prova a darne una visione storica e si rifà alla genesi della democrazia cristiana siccome si è detto che una donna e una madre è patriarcale ma abbiate pazienza ma che senso ha ma che affermazione è il patriarcato quello vero di una volta risale a 50 anni fa 80 anni fa il vero bello detto allora non ditemi che oggi abbiamo una società patriarcale vi invito su youtube a cercare nel banner scrivete alberto sordi vi vengono fuori tutti i film di alberto sordi ce ne sono ne ho trovato uno del 1955 e due del 1958 lì si vede chiaramente come la pensavano a quei tempi si vede esattamente il patriarcato in quei tre film vi accorgerete come veniva trattata la donna in famiglia come venivano trattate le mogli le madri le sorelle venivano trattate come oggi vengono trattate in quei paesi che critichiamo tanto né più né meno in quei paesi hanno il velo in italia non c'era il velo ma era come se ci fosse il fratello decideva sulla sorella tu esci tu non esci tu fai quello che dico io il padre che decideva come il fratello sulla figlia io sono il padre io comando come il padre decideva sulla moglie no tu stai zitta tu fai quello che dico io tu non hai voce in capitolo io sono l'uomo io decido io posso tradire tu no l'uomo poteva tradire era una scappatella la moglie invece quando scopriva i tradimenti del marito doveva stare zitta perché l'uomo è uomo è uomo ecco quindi guardatevi quei film lì e capirete bene che cos'era il patriarcato e non era di destra o di sinistra erano tutti così beh tutti quasi tutti così però la stragrande maggioranza viveva con quella convinzione finita la era finita la guerra da pochi anni dieci anni e c'era un'italietta irriconoscibile guardatela guardatevi sti film di alberto sordi non sono delle caricature fotografano la realtà il medico che dice ad alberto sordi l'autorizzo a picchiare sua moglie perché ci ha preso in giro la picchi cioè oggi quelle cose lì dite ma cosa le dicono i talebani no 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 1958 film italiano che fotografava la società bene quindi quello era il patriarcato non mi dite oggi patriarcato di destra la meloni ma ripigliatevi ma ripigliatevi ma ripigliatevi il patriarcato non era né di destra né di sinistra né di centro era di tutti tutti la mentalità poi è cambiata oggi è un paese evoluto mi viene un po da ridere oggi è un paese evoluto dove le cose sono ben differenti per fortuna però guardatevi quei film e capite che cos'è il patriarcato non si può andare in televisione a dire la meloni il patriarcato la destra è colpa della meloni i femminicidi perché sveglia gente sveglia sveglia ripigliatevi e mentre questo storico giornalista scipione rossi racconta quello che vi sto raccontando io il patriarcato quello vero di una volta risale a 50 anni fa a 80 anni fa esatto la interrompe elena eliana cuomo della cgl e dice ce lo spiega lei giusto a noi ce lo spiega a lei che è un uomo ci spiega cos'è il patriarcato no se ci spiega a lei cos'è il patriarcato forse no e lo storico dice posso parlare perché non è che parlano solo le donne oggi ricorre l'anniversario di 80 anni del codice di camaldoli cioè la riunione in cui nacque la democrazia cristiana in quel documento datato luglio 1943 dopo viene la democrazia chi lo ha scritto ha governato l'italia per tanti anni e noi siamo stati nemmeno tanto male in quel documento c'è scritto che nell'ambito dell'educazione maschi e femmine devono stare separati meglio non confondere quello è patriarcato piegato in modo religioso per carità sembra che il 68 non c'è stato che ho vissuto per caso allora ve la metto giù in maniera così stando attento a quello che dico voi sapete che io sono molto attento a quello che dico io realmente devo vedete che i miei video non sono tagliati i miei video sono tutti interi non è che io poi faccio le edizioni taglio cuccio no qui non mi sono piaciuto lo rifaccio i miei video sono fatti a braccio questo video non è pensato prima non c'è dietro non c'è dietro perché con tutti i video che faccio al giorno io non li posso pensare stare lì editare io li faccio pronti via ecco ma mentre vi parlo devo stare molto attento a quello che dico quindi attenzione a quello che vi dico voi sapete che c'è la dittatura del politicamente corretto e quindi la libertà di opinione è molto limitata molto limitata voi sapete che ci sono argomenti che io non posso affrontare voi avrete avrete notato che io non parlo di tante cose perché non ho idee perché non mi interessa no perché non ne posso parlare o io ne parlo e domani non mi vedete più chiaro allora lo storico è una persona di cultura questo signore è una persona di grande cultura che di grande preparazione che conosce i fatti storici e sa che cos'è il patriarcato quello che vi ho raccontato prima io velocemente ve l'ho raccontato cos'è il patriarcato e voi perché sul canale ci sono tante persone che hanno più di 65 anni il 60 per cento degli iscritti ha più di 65 anni quindi molti di voi sanno perfettamente quello che vi dicevo prima che cos'è il patriarcato lo hanno vissuto sono cresciuti col patriarcato invece questa signorina non so signora signorina eliana cuomo diventata una presenza fissa da floris e rappresenta la minoranza della cgl è una che si presenta tutta tatuata che voi direte che c'entra no niente faccio solo una fotografia del personaggio ed è una persona che insomma dice affronta gli argomenti un po così e pertanto se mi se mi mettete a parlare eliana cuomo con lo storico si vedono tutte le differenze del caso lo storico ha fatto un discorso corretto e questa sindacalista dice ce l'ho spiegato un uomo cos'è il patriarcato o mamma ma come si fa a dire una roba del genere ce lo spiega un uomo cos'è il patriarcato come dire tu zitto che fai parte degli uomini quelli quelle quelle robe lì spregevoli ma capi mi capite che è assurdo e io mi dico scusi giovanni floris lei potrebbe elevare il discorso un po di più quando fa gli inviti non li faccia solo per creare il litigio e fare audience perché se voi portate in trasmissione tutte persone come lo storico poi non c'è litigata perché se voi portate in trasmissione tutti storici tutte persone di un certo livello non si danno ragione a vicenda sia hai ragione come dici tu e allora la litigata dov'è allora devi invitare le eliane e tanti altri personaggi che creano lo scontro e lo scontro è dato proprio da da differenti persone ci siamo capiti arrivederci a tutti e grazie